Vattene cicci di merda, non devi rompere i coliglioni anche qui! Vattene via, mio santo! Due coglioni mosca di merda, devi star fermo, ce l'avevo solo io, ah le mosche, Dio le mosche! Mosca di merda, non ti sopporto più, ma che insetto di merda, un insetto più odioso non lo potevano inventare? Dio santo, che insetto inutile, vattene, vattene, Dio, che tu coglioni però, ovvio, ovvio! Ho scazzato! Porca troia, porca troia! E ma dai, stupida parrucca! Non è un passo colorato! E questi microfoni Interessante Interessante Mi sono caduto di ponerlo subito al cuore Calentro Ma chi è? Sto diserendo? Boh Ol' Ma chi è? Ma chi è? Sto diserendo? Bo Sì mi ha rotto i coglioni parrucca di merda parrucca di merda ma posso non piacere a voi? madonna quanto catturano bene i suoni purtroppo che rumore è pazzesco che schifo che schifo fai schifo prende un fazzoletto non ce l'ho posso dare quei guanti? no almeno uno lo ammazziamo no con i guanti che schifo scusa con guanti di lattice non ne hai degli altri allora ah però così non so come buttarla nel water in che senso? allora non ci sono un fazzoletto e cosa ci muove dentro? prendi la carta italiana mi fa schifo toccarla è volata prendila eh oh premila a te dai mi scappa dove cacchierata? sei scema dove fa scapparti? perché sei tovagliato piccolo ma scusa ma perché eri tagliato? prendi tutto se tovagliato sei intasannata sei scema mica posso buttare ma si dov'è? è sopra vabbè lascia lì sopra dai aspetta adesso dovremmo uccidere si ma sei intasannata se ci hai buttato tutto questo tovagliolo no sei intasannata che ho fatto quale? no ancora è interessante dice sulla sinistra vabbè si no ma prima qui ce ne sono otto eh lo so no premora ce ne sono una due no non me lo dire non me lo dire tre non me lo dire no non me lo dire lasciale lì lasciale lì una l'uccido no basta non ce la faccio che schifo ma dai non può darci qualcosa ma che ne so che schifo vabbè è andata male si va a perdere 5 video sempre meglio di 5 video non ce la faccio comunque ho sbagliato sulla sinistra il cuore quindi bella ok oddio sto dicendo sto girando scusa cosa quasi finito no 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 ma resta amore 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 pronto pronto? eh eh il nonno ha detto grazie a quello che fai allora lei ha chiamato sul telefono solo che il nonno si ha telefonato ha detto ma non si sente bene hai capito? è il volumero funziona ah il volumero funziona ricordatelo è che si sente poco dai vieni sveva in questo modo cincia di merda sono solo due che schifo che fastidio me ne entrano solo altre col cazzo che escono le cimici voglio entrare faccia sta cazzo di mano se ho il braccio messo così non è che la metti comoda faccia sta cazzo di mano scusa no no si così stavo cercando di mettermela così partito ma c'hai il microfono rappresentatrice fermo le mani non ti si vedono neanche così ti si vedono aspetta ma io non devo avere tanto in alto girala così però non ti si si vede dietro ma non si vede il tavolo ma perché c'è tutto questo in alto abbassa abbassa perché a me fa un po' alto abbassa un po' no aspetta abbassa un po' abbassa sì lì eh sì no non l'abbassi lì l'abbassi lì qui sì sì le mani non ti si vedono comunque però devo abbassare qui non l'abbassi così eh sì perché no era già fisso si riusciva già a fare così tagli un po' la testa no va bene così tagli la testa è storto così perché non l'hai tirato così aspetta però cioè ci sei giusta guarda cioè è benissimo ok vai salve benvenuta al suo appuntamento di regressologia adesso oggi le insegnerò così le mani non ti si vedono ma chi se ne frega fa lo stesso ah ok dimmelo allora girami eh ok direzziamo tutto tagli non vedo vabbè così va bene sì ok un po' in ombra qui alzo l'iso no ma sono in ombra perché da qui non viene una luce da qui sì salve benvenuta al suo appuntamento di riflessologia sul palermo delle mani oggi chimica vabbè ma dai se non ne dobbiamo riprese no 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 Allora...